La direzione dell'ASP di Ragusa ha assegnato la somma di un milione di euro in extra budget allo scopo di abbattere le liste di attesa per la protesica e l'assistenza integrativa. Un'azione forte, concreta e significativa, quella dell'ASP che va incontro alle esigenze dei cittadini che hanno bisogno di questo tipo di supporto. Questa somma permetterà di risolvere completamente i ritardi sulle richieste fatte nel 2014 che ancora non era stato possibile evadere. Contestualmente verranno evase le richieste del 2015. Inizia da subito l'attività di autorizzazione e di emissione degli ordini applicando il criterio dell'ordine cronologico per tutte le tipologie di dispositivi in attesa ad eccezione delle carrozzine, motocarrozzine, superleggere, seggioloni, polifunzionali per i quali si ritiene opportuno attendere i risultati delle verifiche della propria attezza prescrittiva effettuate nel frattempo dalla competente commissione. Il problema dei tempi di attesa, per quanto diffuso in tutte le realtà sanitarie, dice il direttore de generale Maurizio Arrico, è percepito con molta intensità e frustrazione dai cittadini. Speriamo che questo segnale, grazie anche alla dedizione degli uffici proposti, sia percepito dai cittadini come un segno di una sanità più amica.